Do subito la parola al senatore Romeo Massimiliano in rappresentanza della Lega. Buongiorno a tutti, intanto grazie al professore Alberto Donzelli. Noi non proponiamo nessun rimedio sciamanico o cose di questo genere, nessun rimedio stravagante, ma semplicemente rimedi e interventi che sono suffragati da evidenze di carattere scientifico. Lo stesso direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, che lavora a stretto contatto con il ministro Speranza, di recente ha detto che con questo virus l'immunità di gregge è un po' complicato a raggiungerla e che riusciremo a sconfiggere definitivamente il virus solo quando riusciremo a trovare una cura in grado di bloccarlo all'inizio. Bene, allora se la strada è quella, nel frattempo i vaccini hanno fatto assolutamente tantissimo, in previsione anche futura dobbiamo cominciare a lavorare anche sul tema delle cure e proprio per questo prendere le esperienze che ci sono e lavorare in questa direzione. Passo la parola all'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, D'Amato Rosa. Intendo collaborare e allargare la partecipazione il più possibile all'interno del Parlamento europeo, nonché nelle regioni della mia circoscrizione, perché ritengo le vostre proposte fondamentali per uscire da questo periodo di crisi pandemica, ma io direi sindemica più che altro. Quindi ritengo che la prevenzione, la prevenzione primaria sia fondamentale, come ritengo che non sia sufficiente la profilassi vaccinale per uscire dalla pandemia. Pertanto le terapie precoci e evidence-based devono essere sostenute, finanziate e diffuse. Servono naturalmente persone dalle mani libere. Passo la parola alla senatrice Laura Stabile, rappresentante di Forza Italia. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per questa importante iniziativa. Noi già in agosto in Senato, insieme alla Lega, avevamo organizzato una conferenza stampa su questo tema e l'obiettivo era proprio quello di promuovere, in vista dell'autunno, di una probabile, se è possibile, ripresa della pandemia, più strategie parallele, dato che il governo sta puntando e puntava principalmente sulla campagna vaccinale. Quello che mi ha colpito molto sul tema delle cure domiciliari sono stati gli attacchi mediatici, anche mediatici, che sono stati fatti, anche piuttosto violenti, ai medici, agli studiosi che praticano o propongono cure domiciliari precoci, con accuse che sono assolutamente illogine, inaccettabili e che rischiano di iscreditare il lavoro di queste persone e di questi scienziati spesso. Qui si parla di cure domiciliari precoci che sono un'alternativa alla vigile attesa voluta dal Ministero che molte volte ha significato in pratica l'abbandono del paziente a se stesso. Tutto questo mi serve per lanciare un appello. Abbassiamo i toni, spegniamo queste polemiche, ritroviamo serenità e riportiamo questi argomenti nel loro ambito naturale, che deve essere quello di un dibattito scientifico che sia ampio, che sia trasparente e che sia ovviamente sempre basato sull'evidenza scientifica e sulle prove che man mano la scienza ci produce. Penso che sia fondamentale che la scienza sia libera, sia aggiornata, sia appropriata a modo da fare una sintesi che possa guidare la politica e non deve avvenire il contrario, il rischio che la politica prove a guidare la scienza cede molto grave. Bene che ci siano gli studi, che ci sia pubblicità degli studi anche oltre il mainstream, bene che si discuta nel merito di terapie precoci. Prendo lo spunto dal nome dell'associazione di cui è guidata da Alberto Donzelli, a Lineare Sanità e Salute, per dire che sembrano due cose scontate, a Lineare Sanità e Salute, così come sembrerebbe scontato a Lineare Verità e Comunicazione. Infatti sarebbe normale, ma su questa pandemia ci sono stati dei problemi, sicuramente nel secondo caso, nella Lineare Verità e Comunicazione, e probabilmente anche nel primo, visto che si sente la necessità di ribadirlo. L'approccio deve essere quello che, come ha detto appena detto il moderatore, deve essere quello razionale, quello scientifico, è stato detto anche da altri, l'ha detto Laura Stabile. La tentazione dell'uomo solo al comando si può avvalere di una mancata verità. Allora, se tu non hai piena disposizione dei dati, tu purtroppo non puoi fare quello che dovrebbe fare l'opposizione, il giornalismo, l'informazione e altro. Cioè dare gli strumenti per capire che cosa sta a dire in questo paese. Quindi io sono contento delle possibilità che date di poter sondare altri campi di ricerca. L'evento di oggi affronta in modo lodevole il problema delle terapie precoci, dove bisogna investire, ricercare e anche informare. Va evitato l'accentramento della ricerca scientifica in mano alle grandi multinazionali, che sono in grado oggi di condizionare i governi. Purtroppo, appunto oggi, è la finanza che comanda la politica. Bisognerebbe ribaltare questa situazione. La scienza va usata a favore del popolo, non a favore delle multinazionali. Sono assolutamente d'accordo che il dibattito scientifico debba uscire dal mainstream e debba essere un serio dibattito scientifico che metta al centro quello che deve essere nella medicina, un approccio multidisciplinare, dove il vaccino può essere una delle, ma gli aspetti critici, le controindicazioni, le valutazioni devono essere fatte con molti più dati e il dibattito scientifico non può essere appiattito su cose che poi si sono rivelate anche effettivamente non esattamente vere. Il relatore a un convegno specialmente scientifico dovrebbe dichiarare i propri conflitti di interesse. È una cosa che esiste in tutto il mondo, tranne che in Italia. Questo non vuol dire sminuire qualcuno, ma vuol dire essere chiari e trasparenti. Sono stato direttore del servizio educazione all'appropriatezza e medicina basata sulle prove della ex ASL di Milano. Sono stato anche membro per un triennio del Consiglio Superiore di Sanità. Sono pensionato da cinque anni, lavoro a titolo gratuito, pago l'affitto in una sede sanitaria pubblica, non ho conflitti di interesse da dichiarare. In questa presentazione parleremo di prodotti o principi attivi che ampliano il ventaglio delle cure disponibili, che vanno anche bene per le fasi avanzate. Io lo sottoscrivo, però anche a domicilio, sempre di intesa con il curante, ci dovrebbero essere delle opportunità che in effetti noi andiamo a esplorare scegliendo quello che vi presenterò con questi criteri di massima. Devono essere dei principi attivi di efficacia molto promettente in base a studi randomizzati controllati, che sono il goal standard per la valutazione dell'efficacia in medicina, che devono essere favorevoli e di discreta sufficiente validità. Questo è un must per quello che vi presenterò. C'è un'eccezione per ivermectina, che però ha 30 studi randomizzati, 25 sono a favore e 5 a sfavore, per cui complessivamente il peso dell'evidenza va in una direzione. Integrati da studi osservazionali di rango inferiore, ma coerenti con i trial randomizzati. Anche dove le prove non siano definitive, curanti e assistiti informati possono prenderli in considerazione e io quindi non sto a dire dovete fare questo, ci mancherebbe altro. La scelta spetta al curante insieme al diretto interessato, evidentemente. Però il messaggio è che in letteratura si trova questo ed è giusto che venne di informazione. Se non sono prove definitive, devono esserci insieme delle altre condizioni, che siano sostanze sicure, primo nonnocere è un must ippocratico, biologicamente plausibile la loro azione, siano principi attivi economici anche per la società, avere un costo opportunità favorevole è una buona cosa per tutti accessibili o che possano diventarlo rapidamente e senza mega sponsor commerciali né ricercatori con grandi coisomi conflitti di interessi. Il ventaglio di queste opportunità che in effetti si stanno ampliando sono ivermectina, che non è un prodotto miracoloso assolutamente, però ha una sua utilità insieme ad altro ed è sicura, assolutamente sicura, le corrette dosi previste e lo vedremo per uso umano in gran parte del mondo. E poi ci sono anche buldezonide inalatorio, iodopovidone ne parleremo, non si sa, ma è molto interessante, fluvoxamina che è un antidepressivo generico equivalente, indometacina che è un antinfiammatorio generico equivalente, curcumina più piperina, a nove studi randomizzati controllati, non è una fantasia, paesi a basso reddito hanno investito anche in queste ricerche, hanno anche degli studi in doppio cieco che la promuovono, nigella sativa, quercettina, melatonina e iota caragenina. Siccome la scienza è a base di dubbi e di conflutazioni, come diceva Popper, una scienza deve misurarsi con i suoi possibili errori, immunizzando se stessa contro le critiche per risultare a parezza sempre vera, non è una scienza. L'appello che ci sentiamo di fare alle istituzioni della salute e alla politica è quello di individuare un luogo neutro in cui i medici e scienziati possano confrontarsi con spirito liberamente critico sulla base di evidenze scientifiche controllate e soprattutto liberi da conflitti di interessi. Questo è quello che chiediamo e non mi sembra che sia una richiesta affatto peregrina e devo dire che i parlamentari che sono intervenuti all'inizio hanno confermato questa esigenza. Grazie.